Assessore, non è voluto mancare questa sera la cerimonia di consegna dei diplomi della prima settimana dei Sansovino Camp, che effetto le fa insomma? Sicuramente ho tenuto a piacere che la mia presenza fosse importante per ritrovare quello che è la storia del calcio savinese, visto tutte le ultime vicende che hanno trovato una serie di incomprensioni tra le varie opportunità che si muovevano nel campo calcistico, visto i trascorsi anche precedenti dei professionisti, visto un progetto calcio che deve ripartire per forza di cose dalle sue basi principali, quindi ripartendo un po' dal basso, ritrovando e cercando di muovere energie locali proprio in virtù di questo che è un'eredità importante per la comunità savinese. Quindi io sono ben lieto di partecipare a questo che dovrebbe essere un primo passo per il futuro calcistico savinese, mi auguro che tra le vere varie anime che il mondo calcistico savinese esprime possa trovare un progetto comune proprio per mettere anche in risalto quello che è un'impiantistica qui locale dello sport savinese e quindi arricchendolo di tutta una serie di opportunità basate su un progetto finalizzato non solo al calcio ma bensì anche ad altri sport. Parlando anche con Antonio Incitti, proprio relativamente a Sansovino Camp, ha detto che la presenza dell'assessore è quasi la dimostrazione che l'amministrazione comunale ha voluto toccare con mano la serietà del nostro progetto, dimostrazione che i savinesi non devono essere traditi dalla loro scuola di calcio. Sicuramente sì, questa è una verità che Incitti dice perché noi siamo stati e saremo sempre sensibili a quello che è il progetto calcistico, della Sansovino Calcio Junior Camp come si chiama ora in ultima istanza e che quindi seguiremo passo dopo passo tutti quei progetti che saranno finalizzati proprio anche alla crescita morale, pedagogica e psicologica di questi ragazzi che faranno uso sia dell'impianto sia dello sport come veicolo di crescita educativa. Grazie per la visione!